salve d'agropalati stasera preparo le polpette di melanzane fortunatamente il tempo è stato caldo quindi anche diversi chili di melanzane sono state ancora prodotte si sono sviluppate addirittura nel mese di ottobre e ancora ce ne sono per non farle buttare ho fatto anche un calato in giro a qualcuno qualche chilo erano piccoline quindi per la vendita non erano ideali erano anche bellissime vedete qua sono tanti ingredienti il pane raffermo anche il pane quello secco formaggio nostro locale sale le melanzane sono state prima ovviamente sciacquate agliata pezzetti sbollentate lasciate raffreddare strizzate un po di prezzemolo c'è anche del sedano un po di peperoncino e ci siamo adesso io le rento praticamente a impasto prima utilizzo questa questo attrezzo che se non sbaglio di tipo non mi ricordo se inglese olandese o giudini lo trovo veramente molto interessante per fare un po tutto veloci si apparecchio e va davanti poi faremo vedere a seguire come vengono queste nostre ovviamente se l'impasto è troppo asciutto possiamo mettere ancora un po di pane specialmente questo secco che asciuga di più e ci siamo anche perché queste si possono anche congelare quindi volendo si possono anche mettere a congelare quindi le trovo interessanti anche per le occasioni veloci lo si devo agire con le mani ci sentiamo la prossima occasione da michael expert a congelare